Cautio e benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Volteam per quanto riguarda l'indice italiano Putsimib. Andremo a vedere tra brevissimo ciò che è cambiato dal punto di vista previsionale, cioè è cambiato poco, c'è un piccolo spostamento per quanto riguarda la data dei massimi di una componente ciclica da 20 giorni perché si è venuto a chiudere un ciclo da 20 giorni e quindi c'è stato il normale riconteggio. Nulla è cambiato dal punto di vista della previsione ma un leggero slittamento di analisi. Io sono Paolo Pisino, sono il fondatore del sito www.trendingpurtuti.com e dopo la sigla procederemo insieme all'analisi del MIMO. Prima di procedere con l'analisi ti invito a visitare il mio sito e chiaramente a collegarti iscrivendoti al mio canale YouTube. Qui in alto a destra troverai le schede con il link per poter accedere ai miei servizi. La prima cosa che ti suggerisco è di iscriverti al canale Telegram gratuito e non avrai nessun tipo di email da dover lasciare, quindi essere martellato da pubblicità continua dove Tizio Caglio Semproni è diventato ultra mega miliardario con il mio metodo di lavoro, assolutamente non sarà così. Sul canale Telegram troverai solo l'aggiornamento quotidiano con i risultati della mia operatività intraday, che è l'operatività che condivido agli abbonati al mio servizio di segnali sugli indici, e i link delle analisi che tutti i giorni svolgo gratuitamente qua su YouTube e anche il link degli appuntamenti sempre gratuiti di trading dal vivo tendenzialmente al lunedì o al martedì. Ti invito quindi a visitare il sito, il segnale intraday, adesso andremo a vedere insieme quelli che sono i risultati, l'indicatore volt time che ti permette di lavorare, come mi vedi fare in tutte le mie analisi, in automatico con l'analisi ciclica senza diverti preoccupare di contare le candele, quindi di privarti di quella che è la base dell'analisi ciclica, sia la proiezione nel futuro del movimento del prezzo, e anche in maniera automatica ti permetterà quindi di poter analizzare più strumenti perché avrai tutto il tempo di poterlo fare, perché? Perché l'indicatore ci mette circa un secondo neanche a fare un'analisi completa di tutto lo storico che hai di qualsiasi strumento in maniera molto precisa senza avere il dubbio dei conteggi che si stanno facendo che siano corretti e poi magari da rifare dall'inizio per fare quadrare i conti. Avrai anche un bel canale teleno di supporto dove potrai sia fare le domande che postare le tue analisi per una condivisione con gli altri membri del gruppo. Corso di analisi ciclica volumetrica, possiamo anche definire una vera academy per imparare a lavorare con l'analisi ciclica e l'analisi volumetrica, 60 ore di formazione, 59 in realtà per essere precisi, un anno intero di licenza e di indicatore, un anno chiaramente di teleno di supporto, di canale, e due ore di lezione direttamente con me. Qual è la differenza dalle altre lezioni individuali? Che imparerai a lavorare l'analisi ciclica? Da chi questo modello ciclico lo ha creato? Non è scopiazzato da altri, la base chiaramente ciclica è di colui che ha inventato l'analisi ciclica negli anni 60, quindi J.M. Hurst, però tutto il modello ciclico in realtà si basa su il mio algoritmo dell'indicatore Voltaic. Risultati dei segnali per quanto riguarda il mese di agosto? Oggi niente operazioni, 154 punti per quanto riguarda il Nasdaq, 30 punti per quanto riguarda il DAX, quindi ottimo mese tenendo conto che è passata una settimana dall'inizio del mese. Andiamo a vedere il nostro MIP. Stavo dicendo che abbiamo, vediamo che c'è stato un cambiamento, avevamo i picchi dei cicli a 20 giorni che erano previsti qua, ok, previsti tra un 2 di agosto e un 9 di agosto. Come puoi vedere adesso il picco del ciclo a 20 giorni coincide esattamente qua con il picco del ciclo a 40 giorni e anche cosa in positiva con il ciclo da 80 giorni. Perché questo è avvenuto? Perché in maniera automatica è andato a definire il minimo del ciclo a 20 giorni. Se arriva a un certo punto in cui la varianza a disposizione finisce e quindi l'algoritmo va chiaramente a trovare quello che secondo il suo calcolo è l'unico punto corretto dove fare finire una componente ciclica, che sia o non sia un minimo assoluto di prezzo perché l'analisi ciclica non si basa sui minimi e i massimi di prezzo perché quella è un'analisi tecnica e non è un'analisi ciclica. Ti ricordo che l'analisi ciclica è slegata dai prezzi. Se io devo calcolare la durata dei cicli in funzione di dove sono i massimi e i minimi importanti allora non ho una previsione ciclica ma ho una conferma ciclica ossia ho un'analisi col senno del poi. Ecco perché molti modelli ciclici anziché proiettare nel futuro il movimento dei prezzi si limitano a contare ogni giorno le candele e quindi è davvero l'illusione che sia sempre giusto perché se poi qua si viene a formare qualcosa vado a ricalcolare tutto nel passato e a fare quadrare i conti. Beh, quella è un'analisi illusoria perché è un'analisi che sostanzialmente ci fa pensare che non ci sia mai un errore con un'analisi ciclica, qualcosa che chiaramente non può esistere. Quindi riposizionando i prezzi, cioè le date, semplicemente vado a posticipare di qualche giorno rimane corretto come si può vedere questo massimo che è stato 5 giorni in ritardo rispetto alla previsione quindi veramente un nulla ma andiamo a risistemare, vado anche a posizionare i successivi cicli da 20 giorni ma andiamo a sistemare i 40 giorni, i 20 giorni e gli 80 giorni che sono tutti ben impilati. Andiamo anche a vedere se c'è una variazione per quanto riguarda i minimi dei cicli da 20 giorni quindi il primo minimo in questo caso è previsto per il 10 di settembre rimasto corretto il 40 giorni anche lui dobbiamo andare a risistemare perché anche lui in questo momento è previsto per la data dell'8 di settembre come puoi vedere non è cambiato nulla, la fase ribassista quella è e quella rimane e il ciclo 30 giorni invece è rimasto uguale, sono spostato quelle sbagliate, quindi previsto per il 19 al momento abbiamo ancora una conferma tra un 9 e un 19 di agosto di settembre e per quanto riguarda la chiusura di cicli importanti come l'80 al 40 al 20 giorni chiaramente il 20 giorni avremo altri cicli da 20 giorni che si verranno a formare nel frattempo ossia per la precisione 1 e 2 cicli e quindi questo piccolo ciclo di 20 giorni è in questo momento una previsione non ancora confermata. Ma cosa ci sta dicendo quindi il grafico? in realtà la componente che dobbiamo andare a ricercare potrebbe sempre rimanere quella ribassista l'ho detto anche nella scorsa analisi, è vero che il mercato ci dava l'opportunità anche di cercare delle indicazioni al rialziste ma in realtà non c'erano motivazioni per poter cercare degli long perché eravamo a sotto le medie e 2 si sarebbe dovuto comunque aspettare la rottura del livello se ben ricordi, adesso andiamo a vederlo, ah no lo lasciamo qua, di 29.850 che però era molto lontano e che quindi sarebbe stato meglio scegliere di attendere per cercare degli short anche perché si sono venute a verificare le rotture delle due trendline importanti da 40 e da 20 giorni quindi rimaniamo ribassisti come tendenza di fondo sì, dobbiamo rimanere in attesa di un segnale sì per quanto mi riguarda un primo segnale importante sarà la rottura con conferma della trendline circa da 80 giorni che darà via un ribasso che presumibilmente vedrà come prima area di target paro dei livelli del broker che qui stiamo guardando 26.253 quindi ancora un po' di attesa, non si fa nulla, long non si va, short non si va quantomeno con la mia metodologia e aspetto appunto che ci sia una conferma tecnica generata dalla rottura delle trendline, della trendline del ciclo a 80 giorni con questo direi che è tutto, ti auguro una buona serata, ciao 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 ciao